La strada di Betria non era una strada, era una carreggiata da carri, era venuta una compagnia di tedeschi e c'erano anche dei non tedeschi, c'erano dei polacchi, i quali erano più propensi a rendersi e passare poi ai partigiani, come ce n'erano parecchi, che erano valoressi, avevano un valore esagerato. Quella strada conduceva sul valico di Garessio per andare poi a Garessio, dove avevano la base all'hotel Miramonti. Lì sono stati attaccati dal Revetria, credo che sia il Revetria che l'abbia circondato e erano lì nella strada, sotto il tiro delle... C'è stato un tizio che non so chi sia, che con un mitragliatore è saltato dietro la colonna, ha impugnato le mani in alto e lasciato le armi a terra. Il che i polacchi hanno vendito immediatamente, ma il tedesco tedesco si è fatto ammazzare. L'hanno fucilato vicino a Campo Gramoso, un po' di Pianoro, quelli che non hanno addirittura ai partigiani l'hanno fucilato. Se uno vuol morire a Hitler, roba sua. Ecco, proprio in Vetria non hanno ammazzato nessuno, non hanno fatto rappresaglie lì, non hanno avuto il tempo perché erano già passati Vetria ed erano sul cammino per rientrare alla base loro. Sono stati attaccati e sono stati presi tutti, almeno per quanto ne so io. Tra l'altro c'è stato un qualche comandante della brigata lì, che si è rivoltato con l'arma ed è stato passato col mitra subito. Gli altri hanno lasciato perdere. E poi c'è stato dei tedeschi che non hanno aderito alla partigianeria di nessun genere. E allora li hanno fatti secchi. E lì c'è stato un romano che era con me e ci siamo salvati quando era venuto tutta la compagnia tedesca con i piedi calzati negli stracci. Ci ha sparato addosso. Nel cinema quando vedi le palottole che fiscano, che alzano la polvere intera, era un conto. E vedertele invece ballare intorno ai piedi è un po' diverso. E siamo riusciti a passare dalla colina lì, dalla Camulera, dove poi è stato suicidato lì. Eravamo lì nei pressi. E siete rimasti nascosti per tanto tempo? No, siamo arrivati in una cascina che era la cascina, adesso non mi viene in mente come si chiama, per vedere il lago di Osilia. Lì abbiamo messo un lumino, c'era una vecchia. Dico, siamo dei partigiani. Dico, c'è mica qualcosa da mangiare. Aveva un pezzo di polenta fritta dentro al grasso di galina. Non aveva anche toccato la gola quella farina. Ce l'hanno dato mezza per uno. E quelle sono le cose che le ricordi, ma le ricordi molto bene perché finalmente avevo qualcosa quasi caldo dentro lo stomaco. Che non era castagne secche, mezza marcia perché cercavi quello per vivere. C'era niente da fare. Quando eri in rastrellamento poi era bestiale. Ma in quella circostanza avete dormito da questa contadina o avete dormito... Ah no, no, l'abbiamo lasciato perdere perché lì se arrivava qualcuno di loro che vedevano, lo ammazzavano. Quello poco ma sicuro. E cosa avete fatto? E abbiamo proseguito per andare giù ai Ronchi. E poi abbiamo... ci siamo divisi con questo ragazzo qua. Un ragazzo romano. L'ho perso di vista e ho raggiunto poi questo... quest'altro... quest'altro ragazzo che si chiamò Donne, che era partigiano anche lui. E siamo arrivati poi a casa sua. Abbiamo lasciato il distaccamento e tutto. Io sono rimasto poi a casa. Guardate Ricciole di Ranieri Alte Guardate Ricciole. Seguila ho par aktività. Grazie a tutti